a casa perchè? dai! però ti ho detto il seggioloni eh prima ce l'aveva papà la macchina non so se ti arrestano no posso andare a casa? vabbè non piangere! ti protegge zio non piangere non piangere hai visto? tu mi dici no ma c'è sta zio non ti preoccupare non ti fanno niente non ti fanno niente non mi ammazzano non che non ti ammazzano e io ammazza che stai a pensare? vieni! non lo accompagna in casa eh ora vediamo quello che ci dicono ecco non sta a tornare lo vedi? metti la scinta si prego grazie ciao bella che hai fatto? aveva paura che l'ha arrestavate no 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 ma che dici? ma hai detto perché dobbiamo? come ti chiami? Nicola come? Nicola che bel nome mi ha detto faccio finta che mi è entrato qualcosa nell'occhio ma che dici? perché? perché c'è paura paura di te? chi è che ti ha fatto prendere sta paura? dimmela a me dimmela a me ma che ne hai questo? quanti anni hai? 5 io sai che ho un bambino di 7 anni tu sei brava? un bambino di 7 anni e uno di 12 ma a me non c'è brava lo vedi? no lei è brava ah va bene allora la prossima volta che è finta e 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 finta hai visto che non sono cattivi? si no ti sei tranquillizzata? si vabbè meno male va meno male va vabbè no ma prendi mamma va